la parola di oggi è tassidermia l'etimologia ci riconduce alle parole greche taxis che vuol dire preparazione e derma che vuol dire pelle quindi letteralmente preparazione della pelle tuttavia oggi con questo termine si indica l'arte di impagliare gli animali viene naturale considerare questa parola un sinonimo di imbalsamazione c'è ovviamente qualcosa in comune ma molti di più sono le differenze in comune c'è l'attività di trattamento di tessuti morti per evitarne la decomposizione la pratica per la conservazione dei cadaveri e degli animali sono antiche e diffuse presso molti popoli le tecniche vanno dall'utilizzo di sostanze speciali come il natron che è un carbonato di sodio resine e oli e successiva bendatura come ad esempio nell'antico egitto o alla mummificazione per disidratazione che avviene anche spontaneamente in ambienti molto asciutti come è successo per alcune mummie ritrovate in perù queste attività avevano spesso scopi religiosi tuttavia e qui cominciano le differenze mentre l'imbalsamazione ha lo scopo di conservare un corpo umano o animale la tassidermia è rivolta esclusivamente agli animali e alle loro pelli in vero già l'uomo pre-storico conciava le pelli ad uso di vestiario e per la creazione di monili ma oggi nella tassidermia tutt'altro è l'uso delle pelli queste infatti vengono preparate e poi eventualmente imbottite con materiali vari poiché lo scopo della tassidermia è la visualizzazione dell'animale come se fosse vivo ad uso soprattutto delle esposizioni nei musei di scienze naturali a scopi educativi allo stesso modo si predisponono i cosiddetti trofei di caccia il sinonimo più corretto per il termine tassidermia quindi non è tanto imbalsamatura ma piuttosto impagliatura e l'artigiano che svolge tale attività è chiamato è chiamato tassidermista o impagliatore l'origine della tassidermia risale al rinascimento la prima collezione documentata si vede in olanda nel xvi secolo infatti un nobile olandese aveva trasportato dall'asia molti esemplari di uccelli esotici che però morirono durante il viaggio dopo vari tentativi di conservare le loro pelli svuotate e imbottite con spezie vari si riuscì alla fine a conservarne alcuni esemplari montati su piedistalli molto lontani da quel che si ottiene adesso i commerci con l'oriente e con il nuovo mondo stimolarono la curiosità di conoscere nuovi estremi animali e questo diede grande impulso alla tassidermia i metodi usati da prima rudimentali e consistenti per lo più in una concia sommaria della pelle e un'imbottitura con paglia o stoppa furono poi perfezione nei secoli diciottesimo e diciannovesimo dopo l'istituzione dei grandi musei di storia naturale presso maggiori musei esistono oggi preparatori specializzati alcuni dei quali raggiungono una notevole bravura nel dare agli animali impagliati forme e atteggiamenti vivi le tecniche utilizzate variano naturalmente a seconda del tipo di animale infatti animali da pelleccia uccelli pesci insetti necessitano di trattamenti diversi a titolo di esempio cito sommariamente quello che si fa con i grossi animali per i quali non ci si limita a riempire la pelle con l'imbottitura ma si pone a base un'imparcatura adatta in legno o ferro si lasciano in posto il cranio e le ossa delle estremità poi si adattano sull'imparcatura le ossa o parti di esse quindi si plasma con resine e altri materiali un modello del corpo dell'animale che ne riproduce fedelmente le forme e infine su questo si stende la pelle opportunamente trattata facendola aderire in modo che risulti bene la plastica del corpo anche gli occhi artificiali in vetro in resina hanno raggiunto un livello di fedeltà che li rende spesso indistinguibili da quelli veri si può dunque parlare sia di una funzione artistica della tassidermia in quanto tesa ad evocare un senso di bellezza estetica attraverso l'imitazione della natura sia di una funzione scientifica in quanto supporto essenziale per lo studio il collezionismo e la conservazione a scopo didattico arrivederci a presto con una nuova parola